Lavoro e concentrazione in questi giorni avvigevano per la Nazionale di Pallamano in vista della partita decisiva per le qualificazioni agli europei contro la Polonia che si disputerà giovedì alle 18 al Palasport della frazione Piccolini. Già venduti oltre 2000 biglietti con ulteriori richieste in arrivo per una cornice di pubblico che si annuncia importante. L'Italia sarà guidata dal vigevanese Andrea Parisini che si troverà a giocare nella sua città quella che definisce una delle partite più importanti degli ultimi anni. La partita è la più importante degli ultimi anni e forse la più importante anche della storia quindi siamo pronti, siamo concentrati al massimo. La stiamo preparando dal punto di vista tattico nei minimi dettagli. Abbiamo avuto tanti giorni per prepararla, sicuramente più della Polonia per cui la nostra preparazione tattica dovrà essere superiore alla loro, sarà superiore alla loro. Da un punto di vista psicologico sicuramente invece dobbiamo essere tranquilli, separare l'importanza della partita con la consapevolezza di essere cresciuti tanto, di far parte di una squadra che ha doppi giocatori in ogni ruolo per cui liberarsi della paura di sbagliare ed essere intraprendenti nelle cose che dobbiamo fare. All'andata la Polonia vinse con 7 gol di scarto, difficile ribaltare la differenza a reti ma una vittoria darebbe comunque all'Italia concrete possibilità di qualificarsi tra le migliori terze classificate dei gironi dietro all'inarrivabile Francia e appunto alla Polonia. La Polonia è una grande squadra, è una nazione che negli anni passati ha avuto una fase di ricostruzione, adesso è una squadra che nonostante non abbia fatto un ottimo mondiale è una squadra già ben formata, giovane come noi, è una squadra che gioca veloce, forte in difesa, in attacco a alcune individualità che sono tra i top al mondo, però è una squadra che siamo riusciti a sorprendere con il nostro gioco veloce, è una squadra che con la nostra difesa abbiamo messo in difficoltà. La nazionale di Pallamano ha disputato un solo campionato europeo nel 1998 ma era paese ospitante, la possibilità quest'anno di giocarsi la qualificazione fino alla fine arriva dopo un lungo percorso di crescita ottenuto investendo sulle giovanili. Queste giovanili ora hanno dato un gran numero di giocatori a questa attuale nazionale, per cui veniamo dopo sei anni di questo lavoro con una nazionale ancora giovane, cosci di aver fatto bene, siamo contenti di aver fatto bene fino adesso, non è stato facile, già essere terzi dopo aver battuto la Lettonia che stava avanti a noi nel ranking, che è una cosa importante da sottolineare e ora però giochiamocela al massimo sapendo che non siamo molto distanti dalla Polonia in questo momento.